La terapia insulinica è un pilastro nella terapia del diabete. L'acquisizione di competenze e abilità nella gestione della terapia insulinica, anche da un punto di vista tecnico, è un requisito fondamentale per un buon controllo della malattia diabetica. L'insulina può essere somministrata con siringhe, con penne o dispositivi chiamati stiloiniettori o col microinfusore. Operativamente distinguiamo due tipi di insulina, insulina limpida e insulina torbida. Inoltre abbiamo un'insulina da pasto che va iniettata in corrispondenza del pasto o subito prima o tra primo e secondo piatto all'interno del pasto o anche subito dopo. L'insulina da pasto, generalmente un analogo rapido, deve essere somministrato in corrispondenza del pasto. Quindi il soggetto si somministra insulina, si inietti insulina e mangia. E' un'insulina cosiddetta basale che viene somministrata generalmente a determinati orari fissi della giornata e che copre, fa bisogno di insulina in quel nostro corpo, lontano dei pasti. L'insulina limpida, nello stilo iniettore, ad esempio gli analoghi rapidi ai pasti, è appunto limpida, trasparente come acqua e non va mescolata, non va agitata. L'insulina torbida invece, nello stilo iniettore, va agitata in modo delicato facendo perno sul gomito fino a quando è omogeneamente in sospensione. L'insulina si inietta nel sottocute della pelle. Vari tipi di pelle, in aree cutanee diverse, hanno velocità diverse di assorbimento dell'insulina. L'insulina si porta a casa dalla farmacia e appena giunti a casa va posizionata all'interno del frigorifero nel cassetto della frutta e verdura, cioè il meno freddo all'interno del frigorifero. L'insulina che ci si inietta invece deve essere estratta dal frigorifero almeno mezz'ora, un'ora prima della prima somministrazione, in modo tale che raggiunga la temperatura ambientale prima di essere iniettata all'interno della pelle. Prima della somministrazione dell'insulina, ispezionare la pelle dell'area prescelta ed evitare di somministrare l'insulina in corrispondenza di nei, di aree infiammate, eritematose, infette, cicatrici e vasi visibili. Si raccomanda di lavarsi le mani, raccomandiamo di disinfettare la pelle in corrispondenza del sito di iniezione. Quando il soggetto si deve praticare insulina, prende lo stilo iniettore, la penna a temperatura ambiente, toglie il cappuccio, disinfetta il tappino di gomma della penna, avvita un ago nuovo, toglie il copriago, seleziona due unità di insulina, pone lo stilo iniettore orientato verso l'alto, picchietta contro lo stilo iniettore qualche volta, osserva se vi sono delle bollicine d'aria, le due unità di insulina vengono ad essere premute fuori dallo stilo iniettore, successivamente selezionare il numero di unità di insulina che mi devo somministrare perché sono sicuro che tutta l'insulina selezionata sarà quella che viene iniettata nella pelle. Nel caso dello stilo iniettore con insulina torbida, rimosso il cappuccio, l'insulina va omogeneamente rimessa in sospensione mediante un'agitazione gentile di una ventina di volte verso destra e verso sinistra con questo movimento di rotazione facendo perno sul gomito. Quando è omogeneamente lattesciente è pronta. Raccomandiamo di selezionare le unità di insulina sullo stilo iniettore dopo aver avvitato l'ago. Con lo stilo iniettore il soggetto si inietta nella pelle disinfettata la dose di insulina. attende almeno 10 secondi prima di estrarre l'ago e dopo averlo estratto non friziona la pelle ma al limite tampona per qualche secondo. Se il soggetto non si somministra correttamente l'insulina aumenta la probabilità di provocare l'insorgenza di lipodistrofie. L'area lipodistrofica comporta una variazione nella velocità di assorbimento dell'insulina e inoltre l'insulina iniettata in quella sede è meno efficace ed espone il soggetto a rischio di iper e ipoglicemie. Mai riutilizzare lo stesso ago per una seconda somministrazione di insulina, ruotare i siti di iniezione. Gli aghi rimossi dallo stile iniettore non vanno dispersi nell'ambiente ma posti all'interno di contenitori di vetro con coperchio come pure gli aghi per l'autocontrollo glicemico e non gettati nell'immondizia generale. In particolare per una corretta somministrazione della terapia insulinica raccomandiamo la rotazione dei siti di insulina, il rispetto della regola stesso sito stessa ora per cui l'insulina analogo rapido al pasto va somministrato in corrispondenza dell'addome, l'insulina basale o le miscele vanno somministrate in sede gluteo femorale. L'utilizzo di aghi di 4-5 mm, il non riutilizzo del medesimo ago per più di una somministrazione di insulina, non frizionare la pelle dopo la somministrazione dell'insulina ma semplicemente tamponare. Grazie a tutti.